Prendono il via i lavori per il rifacimento del manto stradale di alcune importanti arterie cittadine per eliminare le buche che sono fonte di insicurezza per motoveicoli e automobili. Si parte il 28 giugno al Rione Alto con via Cardarelli, via Pietravalle e via Domenico Fontana, compreso il piazzale antistante l'ospedale. I lavori proseguiranno fino al 12 luglio in via D'Antonio e Montesano. Nella prima settimana di luglio apriranno anche i cantieri a fuori Grotta in via Cavalleggeri d'Aosta e via Diocleziano. Dalla metà del mese il restyling toccherà invece via Renaccia, Calata Capodichino, via Leopardi e Santa Maria a Cubito. L'assessore alla mobilità Anna Donati annuncia per le prossime settimane l'avvio di ulteriori interventi. Adesso finalmente un po' di strade cittadine importanti. Il manto stradale sarà rifatto quindi eliminando insicurezza e anche dando più qualità urbana che questa città sicuramente merita. Questo non risolverà naturalmente tutti i problemi di Napoli, ma per fortuna nell'ambito di altri progetti, penso alla riqualificazione, potenziamento e rilancio della mostra d'oltremare, sono previsti una serie di interventi al contorno, incluso al rifacimento di piazzale Tecchio, di tutto quel quadrante. Poi nell'ambito del progetto Napoli Est, vi sono dei fondi disponibili per la risistemazione delle strade alle spalle della stazione, tutt'avversa la zona est della città, incluso il rifacimento di Corso San Giovanni. Sono stati affidati infine i lavori per la ricostruzione del guardrail di via Petrarca di Velto a causa di un incidente d'auto. È già in fase di realizzazione non in loco la nuova struttura che andrà a sostituire la ringhiera preesistente.